Ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, è arrivato il momento di annunciare i vincitori del concorso dedicato ai presepisti delle Marche. Abbiamo ricevuto tantissime foto e video che sono state selezionate dalla nostra sala montaggio che ha decretato il vincitore assoluto e il presepe più originale. La vincitrice del concorso è Maria Zagaglia di Fano, 90 anni, che si aggiudica un buono viaggio di 200 euro offerto dall'agenzia di viaggio Tocchi Tour di Fano a cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti per la collaborazione. Il presepe originale se lo aggiudica Elisa Rossi di Colli al Metauro che vince un prosciutto offerto dalla cooperativa Tre Ponti di Fano. I vincitori saranno contattati per ricevere i premi e noi ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato al concorso che sicuramente riproporremo per le prossime festività natalizie. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di FanoTV.